Caro amico ti scrivo, così mi distrago un po', e siccome sei molto lontano, più forte qui scriverò, da quando sei partito c'è una grossa nomica, non è più finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va, e se c'è fuoco la sera, compreso quando è festa, e se ti ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane, ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà la trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando, sarà tre volte natale e festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli faranno e ci sarà da mangiare e non c'è tutto, potranno parlare, scontri già lo vanno, e si farà l'amore ognuno con lei va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età, e senza farà grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età, vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, ecco che sono contento, che sei qui in questo momento, vedi, 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 vedi caro amico, cosa si vede a inventare, per poter viverci sola, per continuare a sperare, assolutamente e sei questa cosa, per difficoltà in questo momentoizzato che un momento stesso tempo sono gratuito, per bisogno per alleviate leständja che la richiesta e il nostro studente ha sentito, la rispivota è una griglia che non si vedi di più, vedi, voi quando si vedi, vedi, ma seiinkle di vecchia e io mi sto preparando, vedi per nevoli di 물어�ijkare, ma sei vistoraine E questa è la longità. Grazie.